La Chiesa non è una realtà statica, ferma, fine a se stessa, ma è continuamente in cammino nella storia verso la meta ultima e meravigliosa che è il Regno dei Cieli. È la riflessione che Papa Francesco ha offerto ai pellegrini radunati in Piazza San Pietro per l'udienza generale. Nel corso della Catechesi il Pontifici ha spiegato che il Paradiso più che un luogo è uno stato dell'anima in cui le nostre attese più profonde saranno compiute in modo sovrabbondante e il nostro essere come creature e figli di Dio giungerà alla piena maturazione. Quella che si prospetta come compimento di una trasformazione che in realtà è già in atto a partire dalla morte e risurrezione di Cristo è quindi una nuova creazione, non dunque un annientamento del cosmo e di tutto ciò che ci circonda, ma un portare ogni cosa alla sua pienezza di essere, di verità, di bellezza. Al termine dell'incontro Papa Bergoglio ha chiesto di pregare per il suo imminente viaggio in Turchia perché la visita di Pietro al fratello Andrea porti frutti di pace, sincero dialogo tra le religioni e concordia nella nazione turca.